quante volte ti è successo di parlare con qualcuno e di chiederti se ti stia dicendo la verità o magari hai sospetto che il tuo padre o anche semplicemente un amico conoscente ti sta mentendo ciao sono patrizia pietropaolo e oggi ti indicherò dieci modi per scoprire se ti stanno mentendo innanzitutto tieni conto del fatto che se vuoi capire se qualcuno ti sta mentendo non ti basterà ascoltare quello che dice ma dovrai anche focalizzarti sul linguaggio del suo corpo le parole sono importanti sì ma il linguaggio del corpo è quello che ora devi controllare di più vediamo allora per prima cosa stai attento alla posizione della testa della persona con cui stai parlando e movimenti che fa soprattutto quando fai una domanda diretta chi mente può tende a muovere la testa di lato o a tirarla indietro poi stai attento alla sua respirazione che potrebbe diventare più pesante affannosa o comunque profonda controlla anche la sua voce il tono può divenire più acuto un altro segnale è se sta fermo troppo fermo non gesticola e la sua postura è tesa si copre magari spesso anche la bocca oppure se la tocca e magari si copre anche il collo o se lo tocca con la mano un'altra cosa alla quale devi stare attento è se si morde le labbra o se le serra addirittura fai poi attenzione al contatto visivo se da un lato è vero che chi mente tende a non guardare negli occhi anche uno sguardo troppo fisso deve metterti un attimino in allarme ripete poi più volte le stesse cose questo perché non solo deve convincere te ma anche rassicurare se stesso per chiarirsi le idee su quello che sta dicendo e quindi magari ha bisogno di un po più di tempo se poi gli fai una domanda la ripete sempre per prendere tempo arricchisce troppo il racconto quello che sta dicendo aggiungendo informazioni anche piuttosto inutili insomma se hai il sospetto che qualcuno ti sta mentendo ci sono diversi modi che ti permettono insomma segnali che ti permettono di capirlo ricorda però sempre che sospettare di tutti può rendere la tua vita veramente molto più difficile la cosa migliore sarebbe semplicemente capire bene di chi fidarsi e lasciarsi andare con queste persone perché non devi dimenticare mai che una relazione sana le relazioni sane tutte si basano soprattutto sulla fiducia reciproca ciao a presto